Altra impresa di Siamo Taranto, l'associazione che puntualmente è in ogni punto della città, soprattutto nelle periferie, quest'oggi è in via Mediterraneo, nella zona compresa tra Tramontone e Monrev, un'altra pulizia maxi. Siamo con Francesca Boccardi, chi l'ambiente ha svolge il suo ruolo istituzionale e voi come volontari fate la vostra parte, un lavoraccio. Sì, diciamo che questo ciglio di strada noi lo abbiamo ripulito anche l'anno scorso ed era in condizioni incredibili. Purtroppo credo che forse dall'anno scorso non è mai stato più ripulito e quindi quest'anno abbiamo deciso di intervenire perché è una zona tra l'altro molto di passaggio, anche di turisti che si affacciano alla nostra litorale. Avrebbero una brutta immagine? No, la brutta immagine ce l'hanno, per cui abbiamo deciso di intervenire in questo tratto perché la roba che c'era era veramente tanta. Ho visto, io passavo in macchina e ho visto proprio una schiera di bottiglie, proprio sembrava una sagra. Sì, abbiamo deciso di metterle in fila per far rendere conto agli automobilisti che passano di quello che si nasconde sui cigli delle nostre strade. Questi sono il frutto del lancio dal finestrino perché appunto in zona qui non ci sono né barre né nulla quindi è gente che viene o che va in litoranea, magari si prende qualcosa da bere durante il tragitto e poi lancia dal finestrino e qui possiamo vedere appunto i resti di quello che noi abbiamo trovato. Una quantità di bottiglie incredibili, quelle visibili, poi quelle che si trovano al di là della macchia non ne parliamo perché purtroppo la macchia abbastanza mediterranea è molto folta e quindi risulta anche difficile accedere. Noi siamo riusciti per quello che potevamo. Altre bottiglie le abbiamo raccolti anche nei sacchi perché noi ci teniamo alla raccolta differenziata e quindi il vetro ogni volta durante le nostre raccolte lo conferiamo personalmente all'isola ecologica. Grazie.